Laura Pausini e Viaggio Antonacci ancora insieme. La prima data è per il 26 giugno 2019 allo stadio San Nicola di Bari, mentre allo stadio Franchi di Firenze arriveranno l'8 luglio 2019.10 appuntamenti live negli stadi italiani, con guetti inediti, grandi classici e recenti hit. I biglietti in prevendita per il tour saranno disponibili in esclusiva dalle ore 13,00 di oggi, lunedì 3 dicembre, alle ore 13,00 di martedì 4 dicembre per le due fan base degli artisti per gli iscritti al fan club ufficiale di Laura Pausini, www.laura4u.com, e per gli iscritti alla newsletter di Biagio Antonacci-www.biagioantonacci.it. Dalle ore 14,00 di martedì 4 dicembre saranno, invece, disponibili sul sito di Tecatone e dalle ore 11,00 del 6 dicembre nei punti vendita abituali si potranno.